E' nata a Parigi, attrice ha interpretato numerose fiction e film di successo, attrice anche di teatro e ora scrittrice. In questo libro, intitolato I miracoli esistono solo per quelli che ci credono, racconta la sua storia di sofferenza, di fede e di speranza. Ho il piacere di avere ospite nei nostri studi Martin Brochard. Ciao Martina e bentrovata. Ciao, grazie. Grazie per aver raccolto il nostro invito. Questa è la tua storia, un libro edito dalla Lindau ed è la tua storia, condensata, potremmo dire, in poche pagine, ma davvero ricche, intense. La mia storia, diciamo, soprattutto al momento che mi è arrivata questa malattia, perché parte da lì. Poi dopo racconto anche la mia infanzia. Ma questo libro è partito proprio perché sentivo il bisogno di raccontare questa cosa che ho vissuto e che vivo ancora, perché mi sono accorta che comunque può aiutare un sacco di gente. Ecco, entrare in questo altro mondo che è l'ospedale, che è la sofferenza, che è senza fede, è quasi impossibile uscirne bene, secondo me. Nel libro racconti, proprio nelle prime pagine, di una vacanza in Grecia, scrivendo la vita è una festa bellissima, ma spesso non ce ne accorgiamo. Poi siete ritornati a Roma e lì alcune analisi del sangue ti danno una conferma che non sono proprio, che la situazione non è proprio delle migliori. E poi da lì, da Roma, decidi di venire a San Giovanni Rotondo, su indicazione di un collega anche. Come no, Crociti, sì, Crociti che non c'è più, che mi ha chiamato e mi ha detto, perché stavo malissimo, e mi ha detto vai a San Giovanni Rotondo, lì ti curerano bene. E poi mi ha dato il nome di questo medico, Potito Scalzulli, che per me sul momento ha detto col mio marito, chi è greco, cosa sarà questo medico? Mi sembrava un nome lunghissimo, esotico, esatto. Poi tornando dalla Grecia, capito, eravamo anche... E sono partita, ma piena di speranza, perché il fatto già di andare da Padre Pio, prendere il treno, sentivo che tutte le cose negative mi andavano dietro. Te le lasciate delle spalle. Non è che stavo meglio, però siamo arrivati, il treno è arrivato in ritardo. Abbiamo perso il pullman, perché eravamo venuti con il pullman, perché era gennaio, faceva freddo, eccetera, c'era neve. E ho detto, vabbè, questo medico non ci sarà più, perché non è possibile. Invece era tardissimo e lui stava lì e ci aspettava. Già questo mi ha fatto fare una cosa al cuore. Ho detto, non è possibile, sta ancora lì. Ha guardato, ha aperto la valigia, ha messo tutte le analisi, tac, le cose che avevo fatto. Lui ha guardato e ha detto, però, io domani devo rifare tutto. Non è perché non vanno bene, ma però devo rifare io giustamente. No, ha detto, no, non è possibile, non me la sento. Ma hanno appena preso 24 tubi di sangue. Non ti preoccupare, vedrai che andrà tutto bene. Ah, sì, ma mi aveva dato tranquillità, sentivo che era vero, era una persona vera. Poi siamo andati in albergo, ho chiamato tutti per assicurarli, con il mio marito, poi siamo andati a dormire e c'era la foto di Padre Pio davanti a me un po'. Sai, quando ho delle foto dove un po' non sorridono. E ho cominciato a pregare, a pregare tanto. E piano piano ho sentito una grande pace e sono sicura che rideva. Lì poi la diagnosi è stata non felice perché ti hanno appunto comunicato che la tua è una leucemia. Sì, una leucemia, è arrivato a uno stadio già avanzato. Ti sei sentita crollare il mondo addosso in quel momento? Sì, e ho avuto una reazione che tutti abbiamo ma che non è giusta. Perché a me? Ma cosa ho fatto? Dio mi ha abbandonato. E lì ti accorgi che Dio mi ha abbandonato. Ecco, forse Cristo l'ha già detto questa cosa. E tu, quando eri sulla croce, tu cominci a capire, a dire, Oddio, adesso devo uscire e lì c'è un bivio. Allora non è che ci riesci subito, ma o prendi la strada sbagliata, cioè pensi solo a te, alla tua malattia, allontani i tuoi amici, ti rinchiudi, non pensi più a Dio, se no ci pensi solo per arrabbiarti. O se no fai l'altro cammino, cioè di accettare la tua malattia, non rassegnarti, perché rassegnarti non mi piace, accettare la tua malattia, pensare che dovrai vivere con lei e soprattutto non più pensare a te. E questo, in un certo senso, per me è stato questo che mi ha salvato con il mio marito, perché quando ho cominciato a fare la prima chemion, che era molto pesante, ho fatto la prima, la seconda, la terza, e alla quarta mio marito si è ammalato. E mi ricordo che siamo andati all'ospedale a Roma e lì hanno diagnosticato il cancro dello stomaco. con il mio figlio, cioè, ok, io dovevo finire questi due chemio, ovviamente. Allora lui ha dovuto partire in ospedale con il mio figlio e io dovevo andare qui a fare l'altra chemio, che ne avevo ancora due. E da lì io mi sono dimenticata, completamente. Ho pensato solo a mio marito. E devo dire che io penso che questa è la soluzione. Che tu non devi più pensare solo a te. E per fortuna, perché questa chemio mi ha dato la forza di curarlo fino alla fine del 2006, è morto a dicembre. E anche questo prete mi ha aiutato un sacco, è venuto e mi ha dato l'extraemozione, non si chiama più così, si chiama l'olio di ammalati, sì. E mi ricordo mi aveva detto posso venire così da te ogni tanto? Non hai paura? Paura di che? Eh no, perché sai, di solito mi sbattono che la porto in faccia. Come si chiama questo sacerdote? Noel, si chiamava Noel, era un congolese che mi ha molto aiutato, devo dire. Mi ha molto seguito. E allora veniva a casa ogni tanto, mi faceva fare la comunione, la facevo qui quando venivo. Comunque io ho avuto, poi dopo queste, l'ultima chemio l'ho fatta proprio, non dico come se andavo dal parrucchiere, esagerato, però sono venuta perché sapevo che mio marito comunque non stava bene. Ho lavorato anche, ho finito anche la squadra che stavo facendo, perché non volevo far vedere a mio marito che non continuavo a fare le cose. E mi ha dato la forza di andare fino in fondo, che forse non, cioè non lo so. Di fronte ad un'altra prova, l'ennesima prova, perché la tua malattia, quella di tuo marito, penso che qualsiasi essere umano si sarebbe davvero disperato. Tu invece lì hai trovato la forza di andare. Sì, ho trovato la forza con lui di dire delle cose, e poi dopo era andato bene, per me ti tomevo. Ho chiamato, ma ormai era passato un po' sotto silenzio questa cosa mia, perché era arrivato questo fatto di mio marito, che è stato molto difficile anche lì a superare molto. La famiglia per te ha sempre rappresentato un pilastro importante. Sì, sì, per me. Tuo marito Franco, tuo figlio, i tuoi nipoti. Sì, mia nuora, adoro, sono veramente, lì sono molto fortunata, devo dire. La famiglia aiuta in questi casi? No, è indispensabile per me, ma da sempre, i miei genitori erano così anche. Cioè, io, per me, la famiglia è tutto, poi c'è tutto il resto, il lavoro, le amici, però è il punto di partenza della vita, la famiglia. Poi è bello vedere che continua, voglio dire, vedo i miei due nipoti, è bello, è la catena della vita. Possiamo dire che San Giovanni Rotondo ormai è la tua seconda casa. Ah, sì, sì. Insomma, terza, forse Parigi, Roma e poi c'è San Giovanni Rotondo. Sì, sì, infatti sono arrivata stamattina lì per fare l'attacca, sono andata al reparto di ematologia. Ah, Martina, ciao, ormai mi sento a casa con loro. Sì, 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 assolutamente. Appunto, raccontavi che arrivata a San Giovanni Rotondo quella sera, il primo incontro con il dottor Scalzulli, la sera davanti alla foto di Padre Pio ti sei soffermata in preghiera. Sì. Lo conoscevi già prima di quel momento? Com'è il tuo rapporto con lui? Com'è la tua devozione? Sì, cioè, Padre Pio mi ha sempre, ho letto tutte le sue storie, mi ha sempre affascinato questa forza, perché lui è una forza che dà. E io ho sempre creduto in Dio, forse quando ero più giovane, ero sulla strada giusta, però ogni tanto penso andavo un po' a destra, un po' a sinistra, però c'era sempre Dio sicuramente che mi rimetteva nella strada giusta e eravamo in vacanza nel Gargano con mio marito e eravamo vicino a Padre Pio, mi ha detto, vabbè ti porto da Padre Pio, ti fa piacere? Ah sì, sì. Io sono arrivata, Padre Pio c'era la tomba lì in mezzo, mi sono inginocchiata e ho cominciato a pregare, ma stavo così bene, cioè proprio una cosa, infatti dopo un po' mio marito è venuto perché era preoccupata, mi fa, ma dobbiamo andare via. Io ho sentito qualcosa, ho sentito una forza che mi è arrivata e infatti dopo ci siamo ritrovati a San Giovanni Rotondo. Un libro nel quale racconti la tua storia, ma che contiene, nel quale riporti anche delle poesie e delle storie. Una scelta questa naturale, in quanto sono poesie e storie alle quali sei molto legata? Sì, perché io scrivo favole per bambini e va bene, questa è la mia passione. E mio padre scriveva poesie, che ha scritto quando è morta mia mamma, quando aveva 49 anni, mia mamma era molto giovane. E rileggendo queste poesie le ho trovato talmente giuste, per quello che avevo vissuto anch'io, che volevo comunque metterle dentro questo libro, le mie favole e anche i testi di mio marito il Caravaggio e poi la storia di Charles de Foucault che aveva scritto. E' venuto, non è che ci ho pensato tanto, è stato quasi naturale, ho cominciato con l'inizio, poi a quel momento che raccontavo certe cose, ho messo la poesia di mio padre, che mi sembrava il mio stato d'animo, la favola lo stesso. E' venuto così, e poi c'è un mio amico che mi ha detto ma non c'è indice nel tuo libro? Ah, dico sì è vero, ma anche l'editore non mi ha detto niente. No, infatti sono le favole l'indice. Dunque a ogni favole sembra come un capitolo, ma io non l'ho fatto apposta, è venuto così. Sappiamo Martina, mi raccontavi che hai inviato questo libro a Papa Francesco e anche al nostro arcivesco, Monsignor Michele Castoro. Loro ti hanno risposto con delle lettere che tu conservi gelosamente, delle quali sei anche molto orgogliosa. Sì, orgogliosa sì, perché io ti leggo prima quella dell'arcivescovo che è stata molto bella. Lì prendo le occhiali perché è piccolo, come dice mia nipote, non posso leggere. Gentile signora, la ringrazio vivamente per il dono del libro che ci ha fatto pervenire. Abbiamo gradito molto il suo gesto ed abbiamo condiviso la sua esperienza di fede maturata in un percorso di gioie e di prove. Sono certo che la lettura sarà un messaggio di luce a quanti affanati vagano ancora nel buio e sarà di aiuto nella ricerca di Dio, verità e vita. Nell'esprimerle stima per la sua professionalità, ammirazione per la sua fede vissuta ed affetto per le prove che l'hanno accompagnata nella vita, le assicuro un personale ricordo nella mia preghiera e alla tomba di San Pio perché possa essere sempre un punto di riferimento solido per la sua famiglia e per i suoi cari. Con l'augurio di ogni bene, eccetera, la saluto. Bellissimo. Questa è la lettera del nostro orcivesco. E poi questa è quella di Papa Francesco. Io stavo a Radio Vaticana a fare un'intervista per il libro e ho chiesto a questi miei amici se potevo mandare il mio libro a Papa Francesco. E mi hanno detto, ma sì, non è difficile perché lui non dorme più a San Pietro. Con la nostra posta arriva. Allora, io non ci ho più pensato. Invece una settimana dopo mi è arrivata la risposta. Gentile signora, con premuroso pensiero e l'ha voluto far pervenire a sua santità il Papa Francesco il cortese dono di una recente pubblicazione con devota dedica. E questa, se ti dico che cos'è la mia devota dedica gli ho detto, ti voglio tanto bene. Il Santo Padre, nel ringraziare per il filiale gesto e per i sentimenti di stima e affetto che lo hanno ispirato desidera farle giungere le espressioni della sua paterna vicinanza e mentre invoca su di lei la celeste protezione della Vergine Maria chiede di continuare a pregare per la sua persona e di cuore imparte la benedizione apostolica pegno di serenità e cristiana fortezza estendendola volentieri ai familiari e alle persone care con sensi di distinta stima. Io sono molto orgogliosa di queste... E certo contenta, soprattutto poi quando si parla di fede vissuta, di esperienza che tu hai fatto questo davvero, ci auguriamo che questo libro possa dare forza a quanti in questo momento stanno affrontando un momento difficile si sentono abbandonati, si sentono soli E questo è che non è vero che siamo mai soli c'è sempre Dio vicino a noi, questo è sicuro e soprattutto poter avere la forza di uscire un po' da questa malattia, di non averla sempre attaccata e pensare solo a questo, non è facile però... Vedi per esempio oggi sono andata a fare l'attacca poi sono venuta da te è giusto perché se no tu pensi solo a quello infatti adesso sono delle amici che mi fanno hai fatto rachemio? Ma no, no, cioè sembra una cosa normale a me mi fa piacere che ormai lo vivono anche così loro perché non gli ho dato il fatto della pesantezza di certe cose capito? Fa parte della mia vita sono dei momenti belli dei momenti più difficili però ho continuato a lavorare ho fatto la fiction peccato e vergogna ho fatto mi sono pure rotto anche la gamba non ti sei fatta mancare nulla vorrei tornare sul titolo i miracoli esistono solo per quelli che ci credono questa è una tua frase o è collegabile a qualche episodio? No, no, no questa è una frase di Tito Scalzulli del dottor Scalzulli sì, sì, sì l'ematologo che ti ha seguito esatto non greco ma pugliese ovviamente e un giorno quando parlavo dicevo e vabbè più uno fa lachemio magari passa più tempo trovate anche delle altre cose magari c'è ancora più possibilità lui mi ha detto sì i miracoli esistono non solo per quelli che ci credono ok perfetto perché è vero e l'ho messo come titolo l'ho messo come titolo davvero molto sì, sì che lui trovava questa frase molto banale ma non è vero non è assolutamente banale è proprio sperare credere aver fiducia fiducia in Dio fiducia nelle persone perché anche lui ha il suo spirito santo che gli arriva anche se non lo so si pensa che è così ma quando trova o fa delle cose è aiutato anche lui dunque non è vero il titolo è giusto che peso dai oggi alla sofferenza alla luce di quello che tu hai vissuto personalmente? la sofferenza sai quando arriviamo qui con mio figlio delle volte diciamo entriamo nel mondo vero perché delle volte nella vita corri fai delle cose non ti accorgi di tutte le cose belle che hai invece con la sofferenza è molto diverso per esempio tu fai le analisi allora non mangi e dopo pensi dopo andrò a fare la colazione che meraviglia la colazione è una cosa banale no non è vero cioè tu fai tu sei all'ospedale esci io mi ricordo quando sono uscita esceva caldo traffico meraviglioso meraviglioso sentivo gli uccellini ero fuori con le mie gambe cioè la sofferenza se la prendi nel lato giusto ti fa riscoprire come è bello come è bella la vita ogni piccola cosa che all'ospedale con i malati lo trovi queste cose trovi io ho trovato gente bella proprio siamo diventati anche amici e l'amicizia conta anche in queste in questi frangenti così come la famiglia chi è oggi Martine Brochard? beh Martine Brochard è una donna che è stata comunque scappeggiata dalla vita ma molto serena sì sì molto serena e che veramente approfitta di ogni cosa della vita non mi arrabbio più questo potrebbe essere un ottimo consiglio rarissimo proprio anche quando ci sono delle cose non ti appena più magari come prima no no sono contenta dei rapporti sono è molto raro farmi arrabbiare molto molto perché non vale la pena Martine ci leggi un passaggio del tuo libro quello che vuoi voglio una poesia voglio una favola una poesia una poesia di tuo padre allora c'è la vita eterna o aspetta vediamo anche ci sono i disegni dei tuoi nipotini ah sì guarda quello che mi ha fatto la mia nipote per il mio compleanno sono io lei e suo fratello come si chiamano allora Ruggero e Judit infatti le favole c'è un Ruggero e una Judit che ho messo come nome per i bambini così quando vedranno questa intervista saranno contenti che abbiamo inquadrato anche il loro disegno sarà molto orgogliosa il nome è bellissimo è molto molto bello ha 4 anni ecco ha un futuro d'artista ecco sì allora voi la risposta è così è così ha un futuro allora voi è grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.